eccoci qua ragazzi ben ritrovati in questo nuovo appuntamento andiamo a vedere oggi come funziona un ecolizzatore in particolar modo l'equalizzatore di GarageBand quindi apriamo subito quello che è il nostro pannello di controllo apriamo un ecolizzatore EQ channel EQ è proprio l'ecolizzatore di GarageBand che si presenta in questo modo vedete io qui ho un pannello di controllo dove ho tre quattro cinque sei sette otto filtri diversi che cosa sono i filtri filtri sono diversi tipi di modalità di ecolizzazione quindi sono diversi tipi di ecolizzatori che possono coabitare essere insieme nell'ecolizzatore appunto nello stesso plugin di GarageBand quindi partiamo da sinistra con quello che è il filtro passa alto vedete questo si chiama appunto filtro passa alto perché fa passare tutte le frequenze al di sopra di una certa frequenza di taglio quindi questo è un filtro molto utile per andare a tagliare le frequenze molto molto basse quindi qualora io avesse ad esempio una chitarra acustica che ho una voce o qualsiasi altro strumento che non desidero far sentire nella parte molto molto bassa del suono quindi molto molto grave che significa che ad esempio sotto i 100 Hz io qui andrò a selezionare i 100 Hz in questa parte vedete qui 100 e posso decidere quanto intervenire cioè il modo in cui questo filtro andrà a interagire è determinato da questo parametro slope che vedete crea una curva più o meno dolce di intervento quindi in questo modo qua io avrò un'attenuazione diretta di quelli che sono dirette di quelle che sono le frequenze sotto i 100 Hz in questo modo sarà molto più graduale molto più morbida molto più adatta per diciamo per strumenti come la voce o la chitarra dove non vogliamo avere quel brusco calo di frequenze sotto una determinata frequenza di soglia allo stesso modo qui avremo un effetto un parametro chiamato q che è quello di risonanza in questo modo io vado a creare una risonanza e in prossimità della frequenza di taglio che appunto quella che abbiamo detto prima che possiamo cambiare qua in questo caso 100 Hz questa frequenza di questa modalità questa risonanza può essere utile per creare certi effetti che andremo a vedere poi in un altro video poi dopo e andiamo avanti quindi filtro low shelf a cosa serve serve a attenuare o a aumentare i bassi quindi le frequenze basse togliamo adesso il filtro vedete come posso attivare o disattivare alcuni filtri o tutti i filtri dello stesso equalizzatore adesso andiamo a vedere quello che è il filtro low shelf vedete io vado a aumentare o abbassare una certa famiglia di frequenze al di sotto di una frequenza di taglio che è stabilita qua che è quella ad esempio dei 90 Hz vedete qui ho sulla sulla destra 90 Hz di quanto più 10 più 16 17 oppure meno meno 10 di b quelli che sono e vedete io posso andare a aumentare o attraverso questo parametro o direttamente sulla forma dell'equalizzazione q che cosa determina determina la modalità come prima era lo slope qui q invece rappresenta quella che è la modalità di intervento quindi più morbida o più brusca poi ho il filtro a campana il filtro a campana è il classico equalizzatore quindi utilizziamo questo qua ad esempio per farlo vedere io vado a aumentare o diminuire una certa frequenza in che modo in che modo sempre attraverso il parametro q che stabilisce quanta precisione avrà il mio filtro quindi così una campana molto stretta andrà a intervenire in maniera chirurgica in questo modo qua sarà molto più dolce però anche più invadente come utilizzo sempre gain che può essere positivo o negativo nel caso di attenuazione e poi qui ho la frequenza di taglio che posso cambiare spesso quando vado a equalizzare utilizzo per ascoltare per andare a creare un'equalizzazione correttiva quindi magari ci sono delle frequenze che mi danno fastidio in un determinato strumento vado a mettere la campana molto stretta aumento il gain di tanto e cerco la frequenza che mi dà fastidio una volta trovata andrò semplicemente ad attenuarla di un valore che poi andrò a ascoltare da brano a brano da strumento a strumento qui ho uno due tre quattro parametro quattro filtri sempre dello stesso tipo andiamo a vedere invece in maniera speculare quello che è low shelf io qui ho high shelf cioè il attenuatore o amplificatore di frequenze alte vedete io qui ho sempre la frequenza di taglio che posso stabilire sempre qua e poi posso determinare l'amplificazione e l'attenuazione di queste frequenze attraverso sempre la visualizzazione la modalità grafica a mouse o attraverso questa qui in maniera più precisa doppio clic che vado a aumentare di 10 db quelle frequenze sopra i 3100 hertz si utilizza questo tipo di filtro quando vogliamo schiarire uno strumento quindi quando vogliamo renderlo più brillante allo stesso modo invece dell'ice shelf anche il filtro passa basso ha una funzione speculare a quello che è il filtro passa alto quindi andiamo ad esempio adesso togliere questa frequenza qua e qui io andrò a eliminare tutte le frequenze al di sopra di una certa frequenza di taglio quindi qui ho ad esempio mettiamo 15000 hertz vado attraverso slope l'intervento cioè quanto andrà a modificare e quindi in che modo questo filtro andrà a interagire e sempre con la frequenza col parametro q andrò a creare una risonanza che mi faccio sentire il volume la frequenza di taglio me la accentuerà quindi mi creerà una risonanza vi faccio sentire in maniera molto semplice quello di cui sto parlando e qui ho una pad ok e qui con una q molto alta andiamo ad abbassare sentite mi aumenta mi evidenzia la frequenza di taglio andiamo a togliere toglie la risonanza quindi così atteno solamente senza quella sorta di fischio che è dettato dalla risonanza con il q alto io vado a evidenziare quello che è il movimento in questo caso bene anche per oggi è tutto ci vediamo al prossimo appuntamento